Cari amiche e cari amici, da un po' di tempo non vi propongo un diver, ma oggi colmerò questa lacuna. Una breve storia accompagna l'acquisto di questo orologio, e cioè mi trovavo di ritorno da un incontro avuto nel Veneto e dovendo utilizzare la strada normale per tornare a casa, passo per una località che si chiama Capriccio di Vigonza, dove vedo un centro commerciale, Matrix in via Udine. Il primo negozio del centro commerciale è Capricci e gioielli. Mi accorgo che hanno una promozione, cioè grazie alla restituzione di un orologio applicano uno sconto su quelli che sono a loro disposizione, che varia fino ai 200 euro. Loro sono concessionari, come vedete, di Lockman, di Jungans, di Festina, di Maserati, di Sektor, di Lorus. Ho trovato tra l'altro una persona molto competente, con la quale ho discusso di movimenti, di orologi, e ho portato via il Lockman Mare, la scatola esterna, ve l'ho già fatta vedere, oltretutto anche la sua bustina, come vedete tutto in stile arancione, la scatola dell'orologio, che invece è questo blu intenso, la scritta argento, e dentro di nuovo prevale arancione. Il libretto di istruzioni molto interessante, con anche la garanzia. Ecco, vedete, è di quattro giorni fa l'acquisto. E ho potuto, quindi, dando dentro il mio orologio meccanico a pseudo carica automatica, Agani Design e Simi Design, avere uno sconto di 100 euro per l'acquisto di questo magnifico orologio. Ce ne erano tre, due col bracciale, e questo che invece era le finiture in oro rosa, sia della ghiera, la parte in metallo della ghiera, sia sulla corona di carica, sia, come potete vedere, sulle scritte interne Lockman Italy e Mare, e sia sugli indici applicati che sono riquadrati sempre in color oro. Guardate, l'unica cosa che non mi piace, nonostante stia bene da un punto di vista estetico, è la parte in plastica della ghiera. Ma per il resto questo orologio è in acciaio e titanio. Il fondello ha un serraggio con quattro viti, anche la corona di carica è curata, non solo per la L che c'è sulla parte esterna della corona, ma anche per il fatto che si avvita alla cassa dell'orologio. E la tipica forma della cassa Lockman-Tonneau è poi contraddetta dall'estetica con una cassa rotondeggiante, molto bella, 44 mm di cassa. Il vetro è minerale antigraffio con trattamento zaffiro e il fatto di essere serrato con quattro viti e la corona di carica avvitata alla cassa consente all'orologio di vantare un'ottima impermeabilità, cioè 300 metri, quindi 30 atmosfere. Il movimento appunto meccanico-automatico è così dicono la pubblicità che viene fatta da Lockman è a cura della scuola italiana di orologeria che è stata fondata dalla stessa Lockman. La massa oscillante vedete è originale, originalissima, ben lavorata e ho provato a vedere su la 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 base su cosa viene costruito questo movimento e l'unica dato che posso darvi però in maniera dubitativa è quello che sia un movimento su base miota. Se così fosse potrebbero essere 21.600 le alternanze con cui viaggia l'orologio e una trentina di ore di riserva di carica. Però mi piace moltissimo il quadrante. tra l'altro pienamente simmetrico perché è stata spostata l'indicazione della data vedete che è su un fondo bianco in maniera tale da lasciare gli indici della stessa grandezza sia quello ore 3 che quello ore 9 la bandiera italiana perché ovviamente Lockman vuole richiamare la sua origine italiana ne fa un punto di forza come giusto che sia e molto belli sono anche gli attacchi del cinturino cinturino in gomma siliconica che ho preferito al bracciale in acciaio non perché non sia bello è bellissimo anche il bracciale in acciaio ma mi dà un'idea di maggiormente professionale per un utilizzo che mai farò ma che comunque potrebbe essere dell'orologio in acqua quindi cari amiche cari amici se vi trovate a caprice di Vigonza ricordatevi che la promozione è valida fino al 5 di novembre ancora 6 giorni quasi una settimana e approfittatene perché sia Lockman ma anche le altre Jungans mi ha fatto vedere degli orologi inaspettati da Festina con movimenti meccanici automatici un vasu 7750 un crono vasu quindi trovate competenza simpatia e convenienza e convenienza mi è piaciuto questo fantastico e continuo a vederlo bello questa incredibile connubio tra il nero l'acciaio e l'oro e il colore oro di passaggio di passaggio fra i due estremi l'acciaio l'acciaio che appunto è luminoso in nero invece che porta via la luminosità al minimo della luminosità ecco cari amiche cari amici sperando di avervi fatto cosa piacevole anche perché visto che il Lockman Mare non è molto seguito su YouTube vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona anzi un'ottima giornata